Da qualche settimana su Facebook e Twitter sta girando un fotomontaggio impressionante che nonostante le centinaia di segnalazioni non viene rimosso. Ancora una volta la protagonista è una donna famosa e il fake non fa assolutamente ridere. Come nel caso dei deepfake, dove volti di donne vengono montati su corpi nudi e in atteggiamenti pornografici, anche stavolta si tratta di una sorta di violenza virtuale. Un altro scatto modificato questa volta fa infuriare G.P. Cucciari che si chiede come sia possibile che i social non rimuovano, affermando che non violerebbe gli standard una sua immagine dove appare col volto tumefatto. La conduttrice, in onda ogni giovedì sera su Rai 3 con suo bellissimo programma Splendida Cornice, è tornata a segnalare lo scatto in circolazione che la vede protagonista di un fotomontaggio per nulla simpatico. «Io mi chiedo come sia possibile questo», scrive G.P. Cucciari, segnalo. «E non solo io», e a tutti viene risposto che questo tipo di post non viola gli standard. La conduttrice, e tutti noi, si interroga dunque sui sistemi di controllo della piattaforma SocialX, l'ex Twitter, di Elon Musk. Tra l'altro non è la prima volta che volti della TV vengono coinvolti per diffondere fake news che hanno l'obiettivo di sponsorizzare piattaforme di investimenti dietro le quali si nascondono delle truffe. Era successo anche a Fabio Fazio e a Mara Venier, tra gli altri. Il successo. Anche questa settimana Splendida Cornice fa numeri ottimi. Un milione di telespettatori, cioè il 6% di Cher rendendo Rai 3 la terza rete più vista. La qualità premia. Cultura e ironia insieme sembrano essere davvero la combo vincente.